Si chiama LIFT, acronimo di lavoro, istruzione, formazione e transizioni, ma anche parola che in inglese significa ascensore, il volume presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, che sintetizza i risultati raggiunti dalle politiche regionali in materia di educazione e accesso al mondo del lavoro e che saranno illustrati in un tour in tutte le province dall'assessore Cristina Grieco. Tra i dati salienti le politiche per l'infanzia, con il 38,6% dei bambini toscani sotto i tre anni che va al nido e il tasso di abbandono scolastico dal 2014 al 2018 è sceso dal 13,8% al 10,6%. Oltre 30.500 studenti delle scuole secondarie poi sono stati raggiunti dal pacchetto scuola 2019-2020. L'educazione, la formazione professionale erano già materie di competenza regionale, ma a questa si è aggiunta la parte sul lavoro proprio come core business e io credo che lavorare e mettere al centro queste politiche voglia dire avere un'idea di futuro sostenibile anche dal punto di vista della crescita, della coesione sociale di una collettività. Il modello toscano riguarda anche le politiche per il lavoro, grazie alla rete dei 53 centri per l'impiego. Il tasso di occupazione nel 2018 ha superato il 71% contro il 63% nazionale. Alcune delle politiche regionali hanno mirato a inserire i giovani nel mondo del lavoro anche in forme particolari, deboli se vogliamo, stage, servizio civile, tirocini, sono formule che hanno consentito ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. Ecco ciò che i nostri studi hanno mostrato che quando ci si inserisce nel mondo del lavoro anche in modo precario, anche in modo se vogliamo dire non completamente soddisfacente, aumenta la probabilità poi di rimanere nel mercato del lavoro. Il tour dell'assessore Cristina Grieco per illustrare i dati di Lyft partirà il 16 gennaio da Firenze e poi toccherà fino a marzo Prato, Massa, Pistoia, Siena, Grosseto, Pisa, Arezzo, Lucca, Livorno ed Empoli.